Ciao a tutti, mi chiamo Roberta e vivo a Roma, in Italia. Dal momento che ho caricato la foto del mio letto sul server a quando ho effettivamente trovato il momento giusto per questo esperimento è passato almeno una settimana. In questa settimana ho guardato tantissimi feedback e ripassato i consigli di Oliver sul corso online. E quindi mi sono preparata una piccola lista anche sulla sfera emotiva e spirituale della meditazione che mi interessa particolarmente e ho preparato anche delle affermazioni. Ho fatto la prova verso le 22, ho iniziato e ho lasciato la luce accesa per poter eventualmente consultare la lista e ho usato una mascherina per gli occhi. Dopo qualche minuto di rilassamento ho attivato il medpad e ho chiesto di iniziare lo scan. Ho sentito subito come una pulsazione che scendeva piano piano dalla testa, allungo tutto il corpo, andate e ritorno. Dopo qualche minuto ho indicato dei vecchi traumi che a volte mi causano dei fastidi non gravi a cavigli del ginocchio destro. Ho immediatamente sentito l'energia che si concentrava su quei punti come un formicolio, una sensazione di calore moderato che è continuata per tutto il tempo anche mentre l'energia si concentrava su altri punti. Man mano che li elencavo, a memoria, senza consultare la lista, in questo caso prepararla ha aiutato. Poi ho indicato un trauma invece molto più recente all'allegamento a un tendine dello sterno e potevo sentire esattamente il punto preciso come non ero mai stata consapevole prima. Avendo dei seri problemi dentali ultimamente ho chiesto a MedBed di concentrarsi su quella zona e da lì è partita un'altra pulsazione su tutta l'arcata dentale superiore piacevole come se la circolazione del sangue fosse aumentata. Sensazione che è continuata come nel resto del corpo pulsazione, calore, estremità finalmente calde, non più fredde e una condizione di rilassamento molto profonda. A volte parlavo con MedBed ma molto più spesso parlavo pensando un ultimo problema fisico gli ho chiesto se poteva fare qualcosa per un'allergia al grano che ho scoperto di recente, un paio di anni fa non celiachia, solo allergia al grano e quindi diversi tipi di farina che mi crea molte limitazioni nell'alimentazione. In questo ambito non mi aspettavo un risultato immediato anche perché penso che per verificare se c'è un miglioramento o una guarigione bisognerebbe fare dei trattamenti e delle analisi specifiche distanziate nel tempo e per questo problema potrei anche forse chissà essere una buona candidata per gli esperimenti futuri dei volontari su base settimanale e quindi mi dichiaro che un lavoro è disponibile. Dopo un paio d'ore concentrate solo su problemi fisici ho chiesto a MedBed di eliminare eventuali blocchi emotivi o traumi di qualsiasi tipo non ancora risolti. Dato che sono molto interessata all'aspetto meditativo per la sfera spirituale sono convinta che il mio terzo occhio sia completamente chiuso ho chiesto a MedBed che se era positivo per il mio sviluppo spirituale se poteva lavorare per aprirlo e lì c'è stata la sensazione più forte dell'intera sessione sempre sotto forma di pulsazione ma questa volta più forte e decisa dall'interno del naso fin dentro la testa dal centro della fronte ma anche dentro la testa e ho così lasciato passare altro tempo da notare che ero molto poco distratta dai pensieri ero focalizzata ed ero in uno stato contemplativo in tutto ciò mi sono dovuta alzare un paio di volte in più del solito per andare in bagno e questo conferma la sensazione di una circolazione aumentata anche a livello, credo, linfatico, gli inquidi dopo ogni volta ho chiaramente riattivato il MedBed e proseguito da dove avevo sospeso ho approfittato per passare ad altri punti quando ho sentito che ero vicino ad addormentarmi ho letto le mie affermazioni e poi ho spento la luce ho dormito benissimo ma a segmenti al contrario di molte persone che dicono di aver avuto un sonno profondo ero molto ristorata, mi sono svegliata ben riposata senza nessun dolore particolare però ho dormito a tratti e mi sono svegliata spesso c'era un altro problemino fisico che mi era completamente sfuggito un dolore a braccio destro e quindi in corsa ho chiesto al MedBed di occuparsi di quello e devo dire che questo dolore è completamente scomparso ginocchio e caviglia sono ancora un po' doloranti ringrazio Oliver e tutto il team di MedBed e tutti coloro che lo hanno provato perché il loro feedback è stato e sarà prezioso e questo è molto bello al momento non posso permettermi l'acquisto di un MedBed personale quindi spero di riuscire a poter accedere a futuri esperimenti e magari visto il grande successo e il fatto che sta avendo su tante persone questo meraviglioso MedBed spero che chissà magari un giorno il suo costo possa scendere saluti a tutti e vi ringrazio ancora a tutti e vi ringrazio ancora a tutti